buongiorno eccoci per il nostro appuntamento di economia in quark sul sito della stampa punto it con me Veronica De Romanis che ci saluta e Alessandro De Nicola da Washington se non sbaglio per chi ha una certa età qui Washington vi parla Sandro Paternostro va bene ehm beh cominciamo da Washington allora perché le notizie da Washington sono importanti i giornali italiani le riferiscono ma non è chiarissimo insomma quali sono i i veri risultati di queste elezioni di midterm per la camera per il senato e che probabilità c'è che eh Trump effettivamente riesca essere di nuovo il candidato eh repubblicano. A te la parola. Allora la prima cosa che gli italiani ci può consolare è che eh qui sono persino più scombinati di noi per lo spoglio delle schede elettorali nel senso che non è possibile qui adesso giovedì mattina che eh non siano stati ancora dichiarati i vincitori di all'incirca eh trentasette trentotto seggi per la camera dei rappresentanti e eh al senato sia all'Arizona che il Nevada ancora non si sappiano i risultati quindi in effetti sono più eh sono più scombinati di noi il senato e anche per il governatore quando quando si lamentano sul fatto che il sistema di spoglio delle schede non funziona eh non è vero che abbia svantaggiato Trump perché ci sono troppe sentenze che dicono che non è vero ma è vero che non è messo bene detto ciò eh è probabile molto probabile che i repubblicani prendano una maggioranza abbastanza risicata alla camera dei rappresentanti voi sapete che negli Stati Uniti c'è una camera dei rappresentanti e un senato con poteri molto simili non è un bicameralismo perfetto ma sono poteri molto simili infatti molte volte bisogna fare la reconciliation tra i due i due rami del Parlamento al senato c'è un punto di domanda può andare in qualsiasi modo perché appunto ci sono questi due stati Arizona e Nevada che ancora stanno contando e in più ci sarà un secondo turno un doppio turno per la Georgia dove si ehm fronteggiano il candidato eh repubblicano Walker Wormlock che è quello democratico perché in Georgia c'è un doppio turno alla francese quindi può andare in qualsiasi modo le previsioni sono che bisogna che si dovrebbe rimanere un cinquanta cinquanta il che naturalmente dà il vantaggio al partito del presidente perché il vice presidente fa da presidente del senato con casting vote quindi quindi sostanzialmente eh Biden non potrà più eh perseguire la sua agenda eh economica senza contrattare con i repubblicani perché comunque alla Camera dei rappresentanti eh li bloccano non hanno non avranno sufficienti voti per fare politica propria perché i repubblicani sono divisi tra estremisti e modellati ma sicuramente hanno i voti per bloccare qualsiasi cosa eh questo avrà delle conseguenze probabilmente su eh la spesa pubblica perché i repubblicani sono già pronti a dar battaglia sulla spesa pubblica su le tasse sarà impossibile mettere qualsiasi nuova tassa e anche sulla regolamentazione eh ambientale e eh della concorrenza anche se lì fortunatamente per Biden diciamo sono materie in cui i cosiddetti executive orders del presidente della repubblica hanno una certa capacità di incidere a prescindere dal Parlamento. Cosa si può dire? Si può dire che i repubblicani eh hanno vinto e hanno vinto alla stragrande laddove avevano candidati decenti. L'esempio più eclatante, anzi sono due esempi eclatanti, sono la Georgia e il New Hampshire. In Georgia il candidato governatore repubblicano che era quello che aveva certificato la validità dell'elezione del duemila e venti e che Trump eh voleva buttare fuori tutti i costi ha vinto contro una fortissima candidata democratica con sette punti di scarto. Il candidato repubblicano eh al Senato è indietro di zero virgola cinque. Eh il candidato repubblicano è un ex giocatore di football è popolare ma proprio classico trampista che dice dei luoghi comuni. Nel New Hampshire addirittura il candidato governatore Sununu che è di una famiglia politica il padre era chief of staff di Reagan ha vinto con quindici punti di scarto perché è popolarissimo nel New Hampshire e il candidato repubblicano al Senato che è un ex generale tre stelle quindi non proprio uno scappato di casa ma un trampista terribile eh ha perso con undici punti di scarto. Questo si ripete da per tutto. Ultima cosa eh in Arizona in Arizona la stessa cosa i repubblicani hanno guadagnato seggi alla Camera dei Rappresentanti e sono eh sul filo del del rasoio eh sia al Senato che eh per il eh per il governatorato. Eh l'altro punto molto importante che finisco è l'ascesa di questo Ron DeSantis che in Florida ha avuto un risultato spettacolare quasi venti punti percentuali in più del dell'oppositore che è un democratico moderato ex governatore repubblicano della Florida quindi uno meglio di così lo potevano trovare per rassicurare eh diciamo gli elettori e mh e questo Ron DeSantis è uno molto molto duro molto populista ma popolare eh fa tutte le battaglie diciamo così culturali quelle famose battaglie culturali contro l'ideologia woke però molto smart dal punto di vista economico ha trasformato la Florida nell'alternativa a New York molte aziende aprono in Florida quindi non ci sono solo i ricchi pensionati ma anche i giovani lui è lavorato Harvard e Yale quindi un festo non è e può rappresentare l'alternativa a Trump infatti quello che si dice che è un Trump né pazzo eh né 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 pericoloso eh è un Trump ma ma col cervello vedremo già Trump ha minacciato di rivelare cose turche su di lui sarà sarà interessante e per il bene del mondo che piacciono non piacciono le posizioni di DeSantis sarebbe bene che vincesse lui le eventuali primarie con Trump ho capito quindi notizie non sono abbastanza confortanti dagli Stati Uniti attraversiamo l'Atlantico veniamo in Europa dove finalmente dopo tante sofferenze la Commissione ha partorito il nuovo framework delle regole della governance europea dal punto di vista soprattutto fiscale però eh diciamo è un testo molto generico per ora è ancora difficile capire che cosa c'è lì dentro e soprattutto non sembra che ci sia accordo fra i paesi europei in particolare la Germania ha già detto che quella roba lì non gli piace la cosa interessante è che in Italia c'è una voce contraria a questa riforma delle regole ed è quella di Veronica De Romanis che si è espressa in modo molto pungente sulla stampa Veronica perché? Devo dire che avendo letto eh le guidelines perché si tratta di una comunicazione sono ancora più convinta che il governo italiano non deve sostenere eh questa questa riforma allora vediamo l'obiettivo e vediamo se lo ha raggiunto l'obiettivo della Commissione era semplificare un impianto che da molti era considerato complicato e io qui direi beh comunque la realtà è complessa quindi un po' di complessità ci vuole e provare a fare delle regole che possano ridurre effettivamente il debito pubblico incoraggiare le riforme e gli investimenti e ispirarsi al piano nazionale di ripresa e resilienza che è considerato un po' lo strumento eh vincente nuovo che mette d'accordo tutti e cosa hanno fatto per ottenere questi risultati? Intanto hanno eliminato tutti gli indicatori di riferimento basandosi solo su uno che è la spesa primaria ovvero le spese al netto del servizio del debito quindi la spesa per interessi però anche al netto della la spesa ciclica sulla disoccupazione cosa vuol dire in poche parole? Quelle spese che io faccio quando sono in recessione devo pagare i sussidi per i disoccupati quindi in qualche modo rimane la complessità di dover misurare dove sono nel ciclo economico quindi quel famoso eh indicatore strutturale quindi ecco si è fatto un passo in avanti ma se ne fa uno eh indietro. Eh dopodiché la Commissione valuterà quanto viene ridotto a questa spesa primaria in base a una discesa che viene definita plausibile. Come si definisce la discesa plausibile? Beh la Commissione farà dei stress test. Ora noi sappiamo che non c'è nulla di eh meno trasparente e complicato che fare i stress test e io già là mi aspetto grandi eh diciamo negoziati tra paesi e Commissione come fare questi stress test. Eh secondo passo la Commissione divide paesi in tre gruppi quelli che hanno un debito sotto il sessanta per cento quelli tra il sessanta e il novanta e quelli sopra il novanta e anche qui grande discrezionalità della Commissione anche qui mi aspetto eh un bel negoziato tra paesi e eh e Bruxelles. Una volta divisi definisce un percorso di aggiustamento proprio della spesa primaria che sia sostenibile che renda il debito sostenibile. All'interno di questo percorso di aggiustamento i eh paesi membri presentano un piano un piano che è quadriennale quindi non più annuale si possono avere altri tre anni quindi si può arrivare fino a sette dove tu devi dimostrare che in questo periodo di tempo riduci il debito quindi non più seguendo la regola di un ventesimo quindi la riduzione non è più tanto quantitativa ogni anno ma in un periodo più lungo e mi dimostri che per farlo fai degli investimenti delle riforme che concordi con la Commissione europea cioè modello piano nazionale di ripresa e residenza e qui io ci vedo eh veramente un grosso problema perché il modello piano nazionale di ripresa e residenza è un modello dove tu stai utilizzando tu Stato stai utilizzando debito europeo e giustamente concordi cosa fare con i soldi dei tuoi creditori e perché loro vogliono sapere come li stai utilizzando. Queste regole invece si applicano sul debito degli stati sui debiti nazionali e qui noi abbiamo la Commissione che entra non solo su quanto devi diminuire il tuo debito ma anche com'è composta la tua spesa le tue entrate e soprattutto le riforme e gli investimenti che vuoi fare quindi c'è una grande presenza della Commissione europea e una grande discrezionalità. I piani non possono essere cambiati neanche se c'è un cambiamento di governo perché eh si cerca di ottenere continuità salvo casi davvero eccezionali quindi molto simile al piano nazionale di eh ripresa e residenza e nel caso in cui questi piani non fossero rispettati addirittura non si ricevono più i soldi per esempio del piano nazionale di ripresa e residenza quindi si mischiano dei piani si mischiano il piano fiscale debito nazionale con quello che sono invece i finanziamenti di debito europeo che arrivano dal piano nazionale di ripresa e residenza. Concludo dicendo che c'è anche la volontà di eh imporre un costo reputazionale cioè nel caso in cui un paese non eh rispettasse il proprio piano che viene presentato ogni anno beh il ministro che eh il ministro del paese messo sotto procedura di davanzo eccessivo dovrebbe andare a spiegare di fronte al Parlamento europeo quale sono le misure correttive che intende prendere. Insomma io concluderei dicendo che aspettiamo i dettagli questo è chiaro ma vedo una commissione che si prende poteri nuovi che non ha e che secondo me non deve avere eh dato che non siamo in un'unione fiscale poi se arriveremo in un'unione fiscale allora ben venga eh vedo una grande eh rischio da parte eh dei partiti populisti di cavalcare questa interferenza della commissione europea e io quello che farei con consiglierei a Giorgia Meloni di mettersi questa volta dalla parte dei tedeschi per motivi opposti i tedeschi non amano questa proposta perché ci vedono troppa discrezionalità e pensano che Bruxelles possa agevolare i paesi ad alto debito. Io invece penso che Giorgia Meloni dovrebbe mettersi contro questa riforma perché è una riforma che dà la possibilità a Bruxelles di dirti cosa devi fare con le tue entrate e le tue spese. Il piano nazionale di paese di residenza è un'altra cosa. queste invece sono regole dove eh ancora oggi la competenza è di tipo nazionale. Veronica molto chiaro chi tanti di noi vorrebbero più Europa ma ci vuole un governo europeo per eh non può essere la commissione o gli stati perché poi la cosa va sempre al consiglio europeo quindi alla fine diventa una negoziazione fra stati su tutti gli aspetti della politica economica. Questo sembra un modello destinato a non andare molto lontano ma vedremo. Benissimo. Concludiamo qui la nostra puntata di Economia in Quark. Seguiteci sul canale della stampa e sul sito della stampa.it Grazie e arrivederci. Arrivederci.